Eccoci qui per un nuovo Arachirico. Tra l'altro spiego, l'Arachirico non è l'Arachiri tradizionale, cioè questo non è un suicidio, ma è un Arachirico, mi piaceva il suono, per un attacco. E questa volta l'attacco su chi deve andare, ma ovviamente sui romanisti, perché francamente avete stancato. Allora, prima c'era Turone e la menate per 40 anni, anzi 41 anni, e continuerete, continuerete a menarla ancora con Turone. Poi c'erano i guanti strucciolevoli di Aldairi, in una partita Juve-Roma finita 3 a 0 per la Juve, c'erano i guanti strucciolevoli sulla rimessa laterale regalata a Ravanelli nel primo corso. E vi siete attaccati a quello. Poi c'era stato il rigore di Zalaieta, che era fuori area, non era dentro l'area, era calbuto, doveva essere incriminato. Poi ci fu il famoso 3 a 2, quello in cui Rocchi dovette andare a chiedere scusa davanti alle telecamere del TG1 per l'arbitraggio che aveva fatto in quella partita, avuti gli errori commessi, trascinato lì dal Roma fan club di Saxarubro, perché noi sappiamo che sono quasi tutti romanisti, perché c'era stato Vidal che impallava Skorupski nel gol del 3 a 2 di Bonucci. Insomma, e adesso c'è il gol annullato ad Ebrame, il regole di Veretut, due insieme. Penso che però la motivazione più surreale di tutti sia quest'ultima. La più surreale, la più folle, cioè la cosa incredibile è che, è vero, viene annullato un gol, tra l'altro a gioco fermo, e viene dato un rigore, viene dato un rigore e non volevano il rigore ma volevano il gol annullato. Cioè, mai vista una cosa nel genere in tutta la storia del calcio, però i romanisti sono riusciti anche a fare quello. Ma poi, tra l'altro, c'è un arbitro, vede un doppio fallo, lì c'è l'entrata, prima di Danilo su Abram, secondo me fallosa, Poi, chiaramente, c'è Scesni che travolge Mkhitarya e il rigore. L'arbitro cosa fa? Vede quello e fischia. Ci si ferma tutti e la palla finisce in rete. Emma non doveva fischiare, doveva aspettare la fine dell'azione. Sì, vi hanno fatto anche vedere che c'è un fallo di mano di Mkhitarya, anche mentre cade, colpisce la falla, volontariamente, involontariamente. Ma chi lo stabilisce? Voi? Cioè, c'è il Tribunale dell'Urbe, il foro romanista, il foro romano e romanista che decide. Cioè, non lo so, anche la Juventus ha avuto delle valutazioni da parte del VAR che l'hanno danneggiata. Ricordiamoci tutti i gol in fuorigioco annullati a Morata l'anno scorso, che, a mio modo di vedere, per come mi facciano vedere, il fuorigioco erano tutti validi. Però me l'hanno annullati, basta. E alla fine si è accettato. Voi non accettate mai niente. Voi non accettate mai niente. Dell'involontarietà. Chi la stabilisce, l'involontarietà? Mentre lui cade, cosa sta facendo? Se lo fa volontariamente, involontariamente. Ci hanno fatto rivedere quell'immagine cento volte, francamente io non l'ho capito. Ma per voi è assolutamente involontario. Ma chi lo stabilisce? Ma volete andare voi al VAR a mettervi voi al posto dei varisti e dell'albero? Magari mandate Paolo Liguorie ad arbitrare la prossima Juve-Roma. Perché tanto, da quello che si è capito, voi dovete vincere per forza. Questo Juve-Roma lo dovete vincere per forza. Poi andiamo sul rigore. Il rigore che vi è stato dato e che non volevate. Tira. Lo sbaglia? Bisognava ripetere. Solo stavolta. In aria ci entrano sia Chiellini sia Mancini. Subito. Ma chi prende vantaggio è Chiellini che supera Mancini. Beh, è una corsa, il primo che arriva. Ma io vi chiedo, tutte le volte che sono stati dati dei calci di rigore, ma anche soltanto in questo fine settimana, quando tira il rigore Cassi del Milan, quanti giocatori del Milan ci sono in aria? Almeno due o tre. Quando tira il rigore il giocatore immobile della Lazio contro l'Inter, quanti giocatori dell'Inter e della Lazio ci sono già in aria? Almeno quattro o cinque. Avete chiesto? Qualcuno ha chiesto? Ma anche lo dico ai miei colleghi della stampa, quelli che si dicono terzisti e devono uscire fuori allo scoperto. Ho citato Liguori, ma almeno Liguori lo dice apertamente di essere tifoso della Roma. Io lo dico apertamente di essere tifoso della Juventus. Ma voi che vi nascondete dietro questo finto schermo della terza età che non avete, che non avete, venite fuori, venite fuori, ditelo, noi tifiamo Roma o tifiamo un'altra squadra. Comunque, ripeto, quando verranno rifatti tutti i calci di rigore che vengono battuti in questa maniera con i giocatori all'interno dell'area, allora potremmo discuterne, allora potremmo dire che andava rifatto anche quello di Veretù. Ma non perché non lo segna, allora bisogna rifarlo. Cosa facciamo? Glielo facciamo tirare a oltranza fin quando non segna perché bisogna risarcirvi del gol che vi è stato detto, vi è stato annullato perché il gioco era fermo, c'era la mano, ma non vi va bene, ma niente. Ma fate una bella cosa, una bella petizione, cari romanisti, la prossima volta chiedete che quando viene fuori Juventus-Roma nel calendario, quella partita lì, voi non vi presentiate. Chiedete alla Roma di non presentarsi, vi bisogna aprire il caso prima, apritelo prima il caso. Perché così almeno se ne discute e capiamo che cosa volete veramente, perché da quello che si è capito, voi volete venirla a giocare, ma se vincete va bene, se la perdete, guai, casino, finimondo, campionato falsato, la Juve che ruba, non va bene così, non va bene.